L'entusiasmo di più di 5.000 sacerdoti, religiosi e seminaristi del Kenya esplode quando Papa Francesco entra nel lungo tendone allestito nel campo da rugby della St. Mary School di Nairobi. Il pontefice attraversa tutta la tenda e sale sul palco per ascoltare le testimonianze della Presidente delle Religiose e del Presidente dei Superioli Keniani. Poi decide di intervenire a braccio in spagnolo per dare alcuni consigli sulla vocazione e la vita religiosa. Per seguire Gesù sia nel sacerdozio che nella vita consacrata, spiega il Papa, si entra dalla porta e la porta è Cristo, è Lui che chiama, è Lui che comincia, è Lui che fa il lavoro. Ci sono alcuni che vogliono entrare dalla finestra, ma questo non serve perché non arriverà mai a termine un'opera che non ha avviato Gesù stesso. Ci sono poi quelli che vogliono seguire il Signore per qualche interesse, per l'ambizione del denaro o del potere, una tentazione che è stata seminata nel cuore ed è cresciuta come un'erba cattiva. Gesù invece si segue fino all'ultimo passo della sua vita terrena, ovvero la croce. Poi Lui pensa a risuscitarti, ma fino a quel punto devi arrivarci tu, perché la Chiesa non è un'impresa, è un mistero dello sguardo di Gesù su ognuno di noi che dice vieni, seguimi. Quando Gesù ci sceglie non ci canonizza perché tutti restiamo peccatori dal Papa in giù, peccatori che devono saper piangere come San Pietro. Quando un sacerdote, un religioso, una religiosa si asciugano le lacrime e c'è qualcosa che non funziona, piangere per le proprie infedeltà, piangere per il dolore del mondo, per le cose che non capiamo. Ci sono situazioni nella vita, aggiunge Papa Francesco, che ci portano soltanto a piangere guardando Gesù sulla croce. Se un consacrato dimentica Cristo, cade in un peccato che fa orrore a Dio, il peccato della tiepidezza. In vita così i sacerdoti religiosi a non smettere mai di pregare, perché l'anima si secca, si naridisce e prima di ringraziare tutti i membri del clero per ogni carezza di tenerezza data quanti ne hanno bisogno, il Papa chiede loro di servire gli ultimi, non di servirsi di loro. Grazie.